Bentornato Gudi e bentornata, continuiamo nella descrizione del primo avvio del tuo computer accedendo al BIOS. Ti ho lasciato la lezione scorsa con un dubbio, perché può tornarti utile rilevare le informazioni del BIOS? Nel caso fossi costretto o fossi costretta ad eseguire un'operazione, mi chiederai quale? Come tutti i programmi anche il BIOS potrebbe essere soggetto ad aggiornamenti, degli upgrade, tutto ciò per eliminare eventuali problemi oppure fornire capacità di controllo allo stesso, di pilotaggio di alcuni dispositivi che magari prima non possedeva. Premessa una cosa, se non hai la necessità questa è un'operazione da non eseguire soltanto per il piacere di estremizzare tutti gli aggiornamenti del tuo computer, quindi averlo sempre aggiornato, perché tale aggiornamento, come tutti gli aggiornamenti tra l'altro, non è esente da rischi, ma in questo caso possono anche essere gravi. La procedura di aggiornamento del BIOS prevede di norma due fasi, una cancellazione della memoria dal precedente programma, una successiva scrittura nella memoria del nuovo programma. Comprenderai quindi che un problema durante l'aggiornamento potrebbe bloccare la schiera madre, rendendo tra l'altro il PC inutilizzabile, in quanto in memoria potreste avere la vecchia versione del BIOS incompleta oppure la nuova versione assente o non completamente scritta, immagina quindi il potenziale danno. Il ripristino dell'efficienza in certi casi è eseguibile soltanto interagendo fisicamente con la memoria, quindi con la scheda madre, riprogrammandola o sostituendo in blocco la scheda madre stessa. Quindi puoi immaginare che è operazione che non puoi eseguire. Ad onore del vero diciamo che comunque alcuni costruttori stanno iniziando a promuovere dei programmi di ripristino per la riprogrammazione della memoria stessa, nel caso si verificano problemi durante la memorizzazione del programma. Prima di effettuare un aggiornamento, verifica eventualmente se esiste la possibilità di crearti una copia di sicurezza del BIOS presente attualmente nella memoria, in modo da poterla ripristinare qualora fosse possibile. Detto questo, a margine ti dico che l'aggiornamento può eseguirsi in due modi, a freddo o a caldo. Nel primo caso, a freddo quindi, durante la fase di avvio del PC, inserendo dispositivo esterno come una pendrive, un CD, DVD o un harddisk esterno, al cui interno ovviamente è presente una versione del programma, potrai aggiornare lo stesso indirizzando l'avvio del computer proprio da tale periferica. Alternativa a quest'ultima opzione avviene entrando direttamente nel BIOS e vedere se esiste la possibilità di aggiornare il BIOS direttamente all'interno del setup. A caldo invece, hai maggiori carenzie di riuscita, in quanto dopo aver caricato il sistema operativo avvierai un programma eseguibile, quindi con estensione .execute, che scaricato dal sito del produttore della scala madre, aggiornerà la versione del BIOS in un tempo relativamente breve, al termine del quale ti sarà sufficiente riavviare il PC. Alcuni produttori addirittura offrono l'opportunità che, avviando un programma dedicato installato all'interno del tuo PC, questo programma si collega al sito padre, esegue il download del programma, lo scarica e quindi lo installa direttamente in memoria, lo scrive direttamente in memoria. Ad aggiornamento terminato non dovrai far altro che verificare che la nuova versione sia presente all'interno della memoria, leggendo i parametri dello stesso, oppure grazie a programmi alternativi che hai visto nella lezione precedente. Devi però prendere conoscenza di una nota di sicurezza. Il BIOS è un programma. Anche un virus è un programma. Un BIOS corrotto da un virus, o alcuni tipi di virus che navigano in rete, possono creare danni nefasti al tuo computer. Se vuoi eseguire l'aggiornamento, quindi innanzitutto assicurati che la provenienza della versione del programma che ti sei procurato o ti sei procurata sia sicura. Può tornarti utile ad esempio eseguire prima un aggiornamento del database dell'archivio dell'antivirus ed eseguire una scansione completa del tuo PC. Dopodiché potrai eseguire l'aggiornamento del BIOS. Devi sapere che a scopo precauzionale, con sempre maggior frequenza, è prevista un'opzione di blocco per gli aggiornamenti del BIOS, in modo da garantirti una certa sicurezza. Esistono due possibilità, una hardware ed una software. Alcune schede madri adottano un blocco via hardware, ossia tramite un ponticello all'interno della scheda madre, è possibile inibire l'alterazione della memoria contenente il BIOS. Normalmente questo ponticello è posizionato in modo da poter aggiornare la memoria, quindi dovrai volutamente spostare i contatti in modo da inibire tale opportunità. Un'alternativa a tale eventualità risiede invece all'interno delle impostazioni del BIOS stesso. Puoi abilitare o meno la scrittura della memoria flash, che contiene appunto il programma tramite un'opzione che vedremo in seguito. Naturalmente, disabilitando la scrittura, eviterai che programmi dannosi possano corrompere il tuo BIOS. Ne viene da sé che, qualora dovessi eseguire un aggiornamento, dovrai riabilitare la scrittura del BIOS o via hardware o via software, a seconda dell'azione di sicurezza che avrai eseguito. State quindi a valutare la scheda madre o il BIOS ed attuare l'una o l'altra alternativa, sempre che tu voglia. Cioè dell'altro? Certo! Durante la visualizzazione, all'inizio quando accendi il computer, un monitor visualizzerai i parametri relativi al BIOS. Oltre questi parametri, potrebbe presentarsi una lista di tasti che potrai premere per accedere alcune funzioni prima dell'avvio del sistema operativo. Normalmente c'è una corrispondenza abbastanza verificata tra la pressione dei tasti e la funzione che ne eseguirà. Ad esempio, potrai premere il tasto ESC, ESC, il tasto CANCH, DELETE, OF2 o qualche altro, per poter entrare nel setup del BIOS e rilevare o personalizzare alcuni parametri. Premendo il tasto F8 avvierai il sistema operativo in modalità provvisoria. Premendo il tasto F10 o in alcuni casi F11 avvierai la procedura di ripristino del tuo computer. Premendo il tasto F12 ti si presenterà un menu di avvio per poter selezionare da quale periferica avviare il tuo computer, ovvero dove è presente il sistema operativo. Tutte informazioni queste che, proseguendo il percorso, comprenderai un po' meglio. Questi tasti a volte possono anche non essere evidenziati e non sempre sono evidenziati in questa specifica schermata. A volte li potrai vedere non appena si accende il computer, prima che si presentino i parametri del BIOS. Altre volte, addirittura, per poter visionare queste ulteriori opzioni, devi premere un qualsiasi altro tasto. Nel caso, infatti, non fossero presenti, non fossero evidenziati, sarai quasi obbligato o obbligata a leggere il libretto di istruzione della scheda amato del PC per individuare quale tasto ti permetterà di evidenziare queste opzioni. Infatti, è il costruttore, il programmatore, che decide come, se e quando evidenziare tali opportunità. Sta a te, quindi, individuarli tramite un'attenta lettura del libretto di istruzioni. Il trucco è abbastanza semplice, avere voglia di leggere quel che è presentato, ossia porre attenzioni alle informazioni presentate sul monitor o nel libretto di istruzioni. Devi focalizzare ciò che vuoi ottenere, non l'altro. Se accendendo il computer, comunque non premi alcun tasto, la procedura di avvio continuerà evidenziando altri parametri, sostanzialmente quelli relativi all'hardware, che sono presenti all'interno del tuo computer. Infatti, si presenteranno a monitor dati completi o parziali di alcuni dispositivi, come ad esempio la CPU, nello specifico la marca, il tipo, la struttura, la velocità e la memoria periferica. La RAM, marca, tipo, capacità e velocità. La scheda grafica, come marca, tipo, capacità e velocità. E così via anche per il disco rigido, lettori o masterizzatori. Qui ad esempio è riportata una schermata del BIOS, in cui sono evidenziati il tipo di processore, la sua struttura, il modello e la velocità dello stesso. In seguito sono anche rappresentati altri parametri che ti ho appena evidenziato, come la quantità di memoria installata, la memoria cache presente del processore, una sigla alfanumerica relativa al disco rigido, una sigla relativa all'unità ottica e l'inizializzazione corretta del mouse. In generale, come avrai capito, saranno dati che normalmente, mi immagino, già conoscerai, in quanto hai comprato un computer da te definito, quindi in questa fase li potrai visionare rapidamente. Ti ho detto prima che se non premi alcun tasto in fase di avvio, e quindi lasci eseguire la procedura di avvio dello stesso, ad un certo punto inizierai il caricamento del sistema operativo nella RAM installata della scheda madre, sempre che il BIOS trovi il settore definito all'interno del tuo disco rigido. Quindi il sistema operativo deve essere installato correttamente e completamente, ed anche funzionante. Nel caso in cui il BIOS non trovi il sistema operativo, oppure sia perduto completamente o in qualche sua parte, avrai notificato il problema con una frase tipica in inglese, che normalmente suona come evidenziato. Traducendo, ti dice che devi riavviare il PC e selezionare il dispositivo corretto all'interno del quale è presente un sistema operativo, oppure devi inserire un supporto in uno dei lettori CD, DVD, oppure all'interno di una pendrive o in un hard disk esterno, che sia presente un file eseguibile in modo da caricare un sistema operativo. Dopodiché dovrai premere un tasto. Ovviamente in questo specifico momento, non avendo ancora installato il sistema operativo, aspettati la notifica per la mancanza dello stesso. Quando sarà installato, alcune cause per cui il tuo sistema non si avvia potrebbero essere la mancanza dei parametri basi all'interno del BIOS, quindi dovrai entrare all'interno del setup e selezionarli. Impostazioni errate all'interno dello stesso. Il BIOS potrebbe non riconoscere il disco rigido, oppure il disco rigido non è collegato o non è alimentato, oppure è danneggiato, o, ancora di più, il settore iniziale all'interno del disco rigido, definito con la sigla MBR, Master Boot Record, può essere corrotto, errato, alterato o anche danneggiato. Potrebbe esserci una sequenza di ricerca impropria dove individuare il sistema operativo all'interno della lista dei tuoi dispositivi, o, ancora, periferiche esterne collegate, come pennette USB, che sono magari impostate come dispositivo iniziale e al cui interno non è presente il sistema operativo. Sistema operativo alterato da virus, conflitti tra nuove periferiche installate, installazioni di nuovi programmi, aggiornamenti di programmi già installati nel sistema operativo, nuovi driver di periferiche installate, oppure aggiornamenti di quest'ultimi e molti altri problemi. Da questa enorme lista potrà sembarti quasi che il sistema operativo si avvii per un evento eccezionale. No, non è così, non preoccuparti, non spaventarti. Ti potrà forse angosciare questa lista lunghissima di eventi che potrebbe dar luogo ad un mancato avvio del PC e quindi avere delle difficoltà, ma dai tempo al tempo. Ad ogni problema corrisponde una ricerca quasi che ti porterà alla soluzione dello stesso. Se no, che dominatore o dominatrice del computer diventerai? Ora, per il momento, metti in pausa la procedura del bio del tuo computer, perché dobbiamo mettere mani all'interno del bio stesso. Quindi, se vuoi, ricollegati al punto di qualche lucido fa dove c'era scritto c'è dell'altro, quindi dove erano evidenziati i vari tasti da premere, perché devi entrare all'interno del setup. Infatti, dovrai accedere alle impostazioni interne del BIOS, prima di avviare il computer, ed affondare le tue mani nel suo cuore per cambiarne le impostazioni e personalizzarle. Premi, quindi, all'atto dell'accezione, uno dei tasti evidenziati a monitor, che potrebbero essere ESC, CANCIO DELETE o F2. Bene, Goodler, sei dentro. Dalla prossima lezione diventerai un microchirurgo. Infatti, inizierai a mettere mani nel lato oscuro del computer. Ora, un forte saluto, ciao a presto da Carlo e dalla prossima!